E sono con Marco Dorazio, professore straordinario inquadrato nel settore scientifico ICAR 10 ed anche membro del comitato scientifico del SAI. In questo convegno farete il punto sugli edifici a energia quasi zero e nello specifico lei parlerà anche delle problematiche legate alla salute. Di che cosa si tratta? Noi stiamo adottando dei modelli costruttivi di tipo nord europeo nell'idea che l'isolamento sia la strategia unica per contenere i consumi energetici e per ottenere anche degli edifici confortevoli. In realtà se si adotta nel nostro contesto climatico questo tipo di strategia, sì si risparmia energia ma si creano dei problemi secondari, in particolare sulla salute. E noi facciamo ricerche proprio per cercare di evidenziare quali sono i problemi che nascono e come è possibile arrivare al concetto di edificio energia quasi zero senza necessariamente estremizzare il contenimento dei consumi energetici. Lei parla di problematiche legate alla salute perché derivano dall'utilizzo di materiali? Sì, parlo del fatto che se si fa un edificio che non è capace di scambiare in nessun modo con l'esterno si alzano le umidità relative, si alzano i contenuti d'acqua nelle pareti e in particolare negli strati di finitura. Ciò che viene prodotto all'interno degli ambienti da composti organici volatili o altre cose rimane all'interno degli ambienti, questo si accumula nell'interno e poi viene rilasciato sempre nell'interno. Quindi possiamo parlare anche della formazione di muffe per dire? Esatto, pensavamo una volta che le muffe fossero legate soltanto alle temperature delle superfici, quindi abbiamo cercato di correggere tutti i ponti termici per eliminare questi problemi, e quindi ce li ritroviamo in casa anche su edifici fortissimamente isolati. Però immagino che i materiali siano veramente cambiati nel corso degli anni, in che modo i materiali possono modificarsi e essere utili al funzionamento anche in questo senso? I microorganismi crescono per due condizioni fondamentalmente, una perché c'è acqua a disposizione per la loro crescita e la loro vita, l'altro è perché ci sono nutrienti, quindi tanto più i materiali che si utilizzano sul lato interno contengono nutrienti, quindi sostanze organiche, tanto è più facile che si sviluppano microorganismi se le condizioni microclimatiche, in particolare le umidità relative dell'ambiente, sono alte. Lei prima ha parlato di Nord Europa, per quanto riguarda l'Italia, com'è lo stato attuale della situazione per la costruzione di questo tipo? Allora, il problema degli edifici energia quasi zero in Italia è proprio il nostro rapporto con gli altri paesi europei. L'Italia partecipa alle commissioni europee, nelle quali vengono definite le direttive comunitarie, le norme di riferimento, ma il nostro paese ha un contesto climatico molto differente da quello della Norvegia piuttosto che della Germania. In quei paesi fa sempre freddo, quindi il problema è isolare per contenere i consumi energetici in fase di riscaldamento. Nel nostro paese, grazie a Dio, fa anche caldo, qualche volta fa più caldo di quanto fa freddo. E questo significa che i nostri edifici devono essere capaci di contenere i consumi anche in fase estiva. E nello stesso tempo devono garantire comfort in questo periodo. Isolare basta, fa risparmiare, ma nello stesso tempo fa star male dentro gli edifici. Grazie. 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 Grazie.